Ciao a tutti ragazzi, bentornati sui miei video qua, oggi parliamo della cicoria che è l'insalata pioniera, quella che è venuta prima di tutte le altre, la prima insalata essere stata coltivata vi faccio vedere come si fa a raccogliere, si prende un ceppo così, nello stesso verso, e poi si taglia a 2 cm dalla terra, e poi ricrescerà più bella di prima, e anche più dolce vi faccio vedere la folle com'è ecco come fa, si prende un coltello, e si taglia a 2 cm dalla terra, e poi ricrescerà vedete, sta già crescendo, più forte di prima e poi si raccolgono naturalmente i semi, da metà gosso in poi, vedete metto a fuoco niente, questa è la cicoria questi sono i fiori metto a fuoco e niente, questa per adesso è una situazione riconoscibile anche dai peli dietro la pagina inferiore della foglia è un po' amara però di sicuro è meno amara delle foglie più dure questa è invece più morbida e ogni settimana si taglia per vederla ricrescere più bella è un po' amara